Prima di tutto, come la mia mamma era molto pia e religiosa, cantavano lei e un'altra, diciamo, cugina di me, che cantavano in enni liturgici, che non sanno cantare neanche i giovani seminaristi oggi. Si cantava questi enni fuori dalla chiesa, nell'ambito della famiglia. Si mettevano assieme due donne, non chiacchierare, ma pregare e cantare.